In netta evidenza, quindi Vinicio in seconda posizione, perde qualche battuta, Umberto Axe in questo frangente c'è una lieve accelerazione, 14.9 il paletto, 1.14.1 per il chilometro iniziale con Very Good ZS che imbocca la curva finale, se ne va anche nel paletto dei 1.200, 1.28.1, 13.9 questa frazione con Very Good che cerca di accelerare, ritorna alla carica. Umberto Axe dopo aver respirato la bossa anche di Bristol CR dalla retroguardia che viene così in terza corsia, l'ingresso in addirittura, si libera anche Vinicio, davanti c'è Very Good, Vinicio all'interno, poi Umberto Axe che comunque calibra ancora l'ultimo attacco, all'esterno anche Bristol, Umberto contro Bristol, Bristol CR. Il vincitore, la progressione esterna possente di Bristol alla CR che fa rispettare comunque una qualità...